Più programmazione è un elemento fondamentale per costruire il futuro della nostra agricoltura e della nostra terra in generale. In agricoltura abbiamo fatto un lavoro importantissimo, storico direi, per la nostra terra. Per la prima volta la regione Basilicata sta implementando un sistema informativo territoriale che gestirà l'intera programmazione europea ma soprattutto gestirà l'intero patrimonio agricolo forestale della nostra terra. Stiamo lavorando da tre anni, abbiamo implementato già il modulo del fitosanitario e dell'UMA ma stiamo per implementare nei prossimi mesi l'intero PSR. L'obiettivo è quello di avere uno strumento di monitoraggio, di fruibilità anche per il cittadino e l'agricoltore che ci consentirà di programmare meglio l'utilizzo dei fondi in agricoltura e di compiere in maniera più puntuale le scelte più opportune per la nostra terra. Abbiamo come obiettivo per la prossima programmazione quello di provare per i prossimi cinque anni di provare a recuperare l'autonomia dell'organismo pagatore. Tante difficoltà sono quelle legate che vivono i cittadini e gli agricoltori nella tempestività del riconoscimento dei diritti, dei sostegni che hanno maturato e credo che riacquisire lo status di organismo pagatore ci consenterà di incrementare l'efficienza sotto questo punto di vista. Il sistema informativo e il presupposto, l'azione che faremo nei prossimi mesi sarà determinante per raggiungere questo obiettivo.